Sì, è un'ottima prestazione, era difficilissimo giocare contro questa squadra, tutti vedono il bel gioco che esprime, soprattutto giocare a questi ritmi era quasi impossibile. Ce l'hanno fatta, hanno fatto una prestazione maiuscola e già di questo dovremmo andarne abbastanza fiere. Sì, su due nettissimi diciamo, però purtroppo quel che è fatto è fatto, possiamo solo recriminare adesso. L'unica cosa che magari un po' mi lascia l'amore in bocca è il fatto che la decisione non sia stata giustamente vista sotto la lente di ingradimento della VAR, perché si dice che era passato troppo tempo dall'episodio, quando a Bologna c'è stato fischiato comunque un rigore dopo quattro minuti, quindi penso che avevamo tutto il tempo per esaminare l'accaduto. Sì, i 15 punti sono diciamo lo specchio di questa stagione al momento, potevamo averne qualcuno in più però sicuramente continueremo così e il mercato come detto aprirà subito dopo questa partita, siamo già al lavoro, qualcuno andrà via, qualcuno arriverà, quindi visti anche i tanti acciacchi in difesa, vedremo cosa fare in quei ruoli. No, un po' tutti i reparti, comunque ci riuniamo col mister, il direttore sportivo ursino, faremo un po' il punto della situazione al momento, anche perché comunque è stata cambiata guida tecnica, magari sono dei punti di vista nuovi, quindi vedremo di accontentare anche l'allenatore sotto tutti i punti di vista. Penso è stato un anno positivo, un anno di cambiamenti, eravamo abituati a un tipo di gioco, abbiamo cambiato in corsa, però comunque diciamo che non abbiamo cambiato l'identità del Crotone, quindi diciamo che continueremo a lavorare come siamo abituati a fare e vedremo cosa ci porterà il 2018. Siamo partiti con l'idea di chiudere tutte le linee di passaggio centrali del Napoli, andando con Stoian a fare il quarto di centrocampo, prendo Rodin e mettendo Trotta in verticale. Appena preso gol ci siamo rimessi nel nostro sistema normale e siamo andati a cercare di fare una cosa differente, con Mandragolo alto su Giorginio, tenendo tutte le varie cose, alchimie tattiche che vengono discusse. Alla fine del primo tempo ho chiesto ai giocatori di fare una cosa, di giocare senza pensare a quello che stanno facendo, cioè nel senso, li avevo visti troppo preoccupati di fare il passaggio giusto e infatti avevamo sbagliato una buona dose di disimpegni anche semplici, anche per merito loro perché sono veramente bravi ovviamente. E nel secondo tempo secondo me la squadra ha fatto benissimo anche in virtù di una cosa, Aietis qualificato, Cabrera infortunato, Simic al trentesimo mi ha detto non ce la faccio più perché si era allenato pochissimo e alla fine del primo tempo mi ha anche detto scusa mister ma non ce la facevo più e a un certo punto a Faraoni sono venuti i crampi. Quindi giocando un bel pezzo di partita con Sampirisi difensore centrale, con Roddien terzino destro, con Stojani interno di centrocampo e crociata sinistra, faccio i complimenti alla squadra, faccio veramente i complimenti perché con tutte queste defezioni, con tutte queste situazioni particolari hanno comunque fatto bene e sono contento soprattutto per Giovanni, crociata, sì perché è un ragazzo che si impegna, è un ragazzo che mi sta piacendo molto. A memoria non mi sembra di aver visto degli attaccanti centrali che contro il Napoli avessero tirati in porta più di una volta partita o due, ma posso sbagliarmi, voglio dire, mi sembra che nelle partite che ho visto, che ho visionato, non avessero avuto tante occasioni da gol contro il Napoli, quindi ci sta che magari in questa particolare occasione non si è arrivato a tirare in porta, quella volta che è arrivato e che il re in apparato era in fuorigioco. Però siamo arrivati con altri, in altre maniere, e però lì è uno dei punti dove stiamo lavorando e stiamo cercando di migliorare questa situazione perché vogliamo che Budimir giochi nello spazio porta e che non vada in giro a sprecare energie. Sicuramente il Napoli è una grande squadra, ha avuto occasioni forse più unite delle nostre, però per il secondo tempo che abbiamo fatto secondo me meritavamo pienamente il pareggio. No, sicuramente questa prestazione ci deve dare coraggio e non dobbiamo più ricascare negli errori come è successo a Roma o come contro la Samp, contro l'Atalanta, che al primo gol mollavamo, perché abbiamo dato dimostrazione che le partite contro qualsiasi squadra puoi riacciuffarle se rimani sull'1-0, perché oggi ci sono capitati tre occasioni, più altri due dubbi, rigori, e quindi potevamo riuscire a strappare un punto. No, bisogna continuare come oggi, non bisogna ricascare negli errori delle partite precedenti, bisogna continuare su questo standard qua e sono convinto che i punti arriveranno, perché se giochiamo così da squadra, stiamo compatti, aggressivi, possiamo giocarcela sia in casa soprattutto, ma anche fuori.